non ci riesce facile fare che quello era l'ultimo brano una volta mi sono cessano a Roma di finire il concerto e di dire allora signori scusate non ve l'ho detto però questo qua era l'ultimo brano si alzò una voce dal pubblico è buciardo più a me dopo questo caldissimo invito tutti in coro a buciardo vabbè signori sei proprio la chiamata dopo tutte queste chiacchiere io non la giù pure l'ho ancora in alto vabbè signori vabbè signori Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.